Continua il dibattito sulla mancata illuminazione di rosa del paretone del Gran Sasso per il Giro d'Italia. Il presidente della regione Marco Marsilio ha annunciato di voler convocare a stretto giro una riunione tra i vari enti interessati alla questione. La decisione ha però scatenato le reazioni della provincia di Teramo e di alcune amministrazioni locali che si sono sentite escluse dal tavolo di mediazione. Non è una questione di volontà o voglia di essere invitati. È un tavolo che segue la conferenza stampa organizzata qui in provincia da me, dai sindaci di Pietra Camela e di Isola del Gran Sasso e dal presidente del GAL e da un membro dell'organizzazione di RCS. È chiaro che se questo tavolo ha destato delle perplessità circa le autorizzazioni e la regione giustamente si è posta come pacere della vicenda o come catalizzatore della vicenda, avrebbe dovuto quantomeno invitare tutti gli attori che l'hanno promosso e in particolare non avrebbe potuto dimenticare né la provincia, proprietaria delle strade sulle quali viene svolto l'evento, né il comune dove arriva la tappa, cioè Pietra Camela. Quindi perché invitare solo due dei quattro protagonisti di questa vicenda e non invitare tutti ma soprattutto non invitare coloro che hanno il maggiore interesse. In risposta il presidente Marsilio ha dichiarato che la sua preoccupazione era quella di contattare al più presto le parti più coinvolte, cioè il comune di Isola che ha fatto la richiesta per illuminare la vetta del Gran Sasso e il parco che ha rispinto la richiesta. Oltre al Gallega avrebbe finanziato l'operazione. Inoltre la regione ha annunciato di essere disponibile a sostenere con i propri uffici le necessità amministrative che dovesse riscontrare il comune di Isola e Gran Sasso per completare la documentazione richiesta dal parco in tempi brevi. L'obiettivo del progetto ricordiamo era quello di rendere omaggio alla corsa e valorizzare il paesaggio del Gran Sasso, ma il parco ha motivato il suo no con ragioni di tutela ambientale e paesaggistica. Infine il presidente della provincia di Teramo ha criticato la costante assenza di compartecipazione da parte del parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il parco sembra dall'altra parte della barricata, i comuni dalla parte opposta e si continua ancora una volta dopo 30 anni dall'istituzione di questo parco una guerra, se così si può chiamare, che non fa bene ai territori, non fa bene al parco e non fa bene soprattutto alla collettività. Grazie.